Ed eccoci qua, siamo nuovamente in diretta per parlare di emergenza educativa, questo tema molto importante che riguarda soprattutto gli educatori, i genitori, ma anche i ragazzi. Vogliamo invitarvi, facendo un po' uno strappo alla regola quest'oggi, anche ad intervenire in diretta perché l'argomento ci pare interessante, quindi se avete dubbi o comunque perplessità su come educare i vostri figli, chiamateci allo 0882 41 83 80. I nostri ospiti oggi, e do subito a loro il benvenuto, Luciano Riccardi, insegnante di religione, benvenuto, e Alessandra Gatta, un ritorno gradito nei nostri studi. Grazie, grazie Alessandra, grazie Luciano. Dunque riprendiamo il nostro argomento, ne abbiamo davvero per tanto tempo insomma, possiamo parlarne per tanto, anche perché c'è questa emergenza, quindi è nostra premura anche prepararci a questo e formarci. A volte si dice educarsi per educare, ed è forse la chiave giusta per introdurre anche questo discorso. Sì, indubbiamente il docente, l'educatore deve necessariamente fornirsi di tutto quel materiale, mezzi, per poter poi far fronte a tutte quelle istanze, richieste, esigenze, per affiancare, accompagnare il ragazzo in questo suo, direi, problematico percorso. In maniera particolare oggi possiamo dare anche un sottotitolo alla nostra puntata, al nostro incontro, educare, emergenza educativa, incarnare la fede nella cultura, anche perché ci troviamo nell'anno della fede, volutamente, voluto, fortemente, ecco, in un certo senso da Benedetto XVI, lo ha indetto nell'ottobre scorso, quindi inseriamo bene anche questo argomento, come educare alla fede i giovani? Sì, indubbiamente questa della fede è una dimensione che il ragazzo non sottovaluta, anche se molte volte è molto critico nei confronti della fede, di chi la rappresenta, però bisogna capire le motivazioni per cui i ragazzi molto spesso hanno delle riserve nei confronti della Chiesa e anche del credere. Bisogna scavare dentro le loro situazioni personali, capire il perché di questo rifiuto e cercare insieme con loro di fare una lettura attenta di quelli che sono i dinamismi che voi o non voi ci appartengono. Probabilmente noi educatori, comunque genitori, siamo chiamati anche a leggere un po' i segni dei tempi, questo è un invito che ci viene addirittura, ci viene fatto dal Concilio Vaticano II, quindi sono passati 50 anni, si è celebrato proprio quest'anno l'anniversario, leggere i segni dei tempi ancora oggi è fondamentale, è necessario? Sicuramente perché molto spesso siamo facili ad azzardare giudizi sui ragazzi, però non ci soffermiamo a leggere le loro storie personali, le situazioni, gli episodi, certi fenomeni, per cui alla fine si limita il tutto ad esprimere un giudizio e finisce lì, invece no, è sbagliatissimo. Bisogna invece aiutare i ragazzi a saper interpretare, decodificare quegli elementi, quegli episodi, quelle situazioni che spesso possono nascondere magari il desiderio o la rabbia di voler trovare qualcosa di bello, di utile, di significativo per la propria esistenza, ma che intanto viene soffocato. Queste risposte possiamo trovarle in due documenti, probabilmente, almeno questi due che ho tra le mani, poi sicuramente ce ne sono tanti altri di piccoli tesori, che sono questi appunto, gli orientamenti pastorali dei Vescovi, educare la vita buona del Vangelo, che abbiamo più volte approfondito con Luciano, e Pietre vive per la costruzione del Tempio, che sono poi le linee pastorali dell'Arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, Michele Castoro. Pietre vive per la costruzione del Tempio sul ruolo dei laici nella Chiesa e nel mondo, un ruolo fondamentale che viene oggi riscoperto. Sì, perché il laico deve necessariamente appellarsi ai suoi carismi, ai suoi doni, per cui deve muovere quelle situazioni in cui viene richiesto il suo impegno. Non può dipendere sistematicamente dalla figura ecclesiale, ma deve necessariamente riscoprire il suo ruolo nel sociale e dare il suo contributo. Però molto spesso bisogna anche riconoscere al laico questo carisma. Non sempre viene fatto. Carisma e responsabilità. E responsabilità. Alessandra è insegnante di religione. Anche tu sei a contatto con i bambini, forse un po' più piccoli, rispetto a Luciano, l'abbiamo anche detto nella volta scorsa. Com'è il rapporto dei bambini con la Chiesa, la Chiesa universale? I bambini vivono un rapporto abbastanza solare e positivo con la Chiesa, il gruppo parrocchia, frequentano il catechismo. Io insegno una scuola primaria, quindi molti frequentano il catechismo dell'iniziazione per la prima comunione, la confessione. Quindi di conseguenza i bambini vivono questa loro esperienza in maniera molto bella, positiva, di gruppo solare e ritrovano un riscontro anche in classe, a scuola, nell'ora di religione, con l'insegnante, quando approfondiscono il loro studio. Insomma, ovviamente adatto alla loro età, alla loro conoscenza. Quindi diciamo che fortunatamente nella scuola primaria ancora esperienze negative non hanno, diciamo fortunatamente, il problema sia soprattutto quando si arriva alla scuola secondaria di primo grado, nelle scuole medie, dove già iniziano a sviluppare un senso più critico, sia nei confronti di ciò che li circonda, quindi anche in casa, cambia il rapporto con i genitori, diventa magari più conflittuale, ma diventa critico anche nei riguardi delle diverse organizzazioni, tipo la scuola, tipo la parrocchia che frequentano. E lì è importante il ruolo dell'educatore, soprattutto in quell'età. Questo senso critico di cui parli viene fuori con l'età, o è qualcosa comunque di innato, però ovviamente con la maturità, con gli anni, quindi si sviluppa a maggior ragione. Ovviamente i bambini, lo sappiamo, hanno un potenziale religioso dentro, innato. E' inutile usare tante favolette con loro. Bisogna andare all'essenziale, dirlo con le parole giuste, senza trovare parole sbagliate, perché poi alla fine se le riportano. No, 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 assolutamente. E accolgono abbastanza bene il messaggio dato, lo accolgono veramente bene, cercano anche di realizzarlo nella loro vita. Comunque con i bambini si riesce a trovare un terreno molto, molto fertile, ma davvero molto fertile. Il problema, ripeto, quando crescendo, aumentando questo senso critico, che purtroppo è una criticità abbastanza negativa, perché magari notano certi atteggiamenti, certi classismi, di cui purtroppo la nostra realtà è piena, in ogni ambito. Lì poi c'è, subentra, la bravura degli educatori, come dicevamo. Invece la Chiesa in rapporto ai giovani, Luciano? Sì, la Chiesa in rapporto ai giovani dovrebbe, a mio avviso, cambiare un po' le modalità di approccio, perché intanto ha a che fare con dei ragazzi che esternano una certa incredulità nei confronti della Chiesa. Questo perché la Chiesa non sempre offre un ambiente, un clima che possa farli sentire a casa loro, in famiglia, offrendo loro anche degli spazi, offrendo loro delle opportunità per poter valorizzare al meglio i loro talenti, i carismi. Un po' tornare all'oratorio, alla Don Bosco Maniera, dove il ragazzo veniva in un certo modo messo nella condizione di poter mettere a frutto le proprie potenzialità, ma non tanto solo per imparare un mestiere, ma per poter realizzare la propria persona perché piaceva fare quello che gli veniva offerto. I giovani sono una risorsa, e lo sappiamo bene, però hanno bisogno anche di appartenere ad un gruppo. Sì, quello che stavo dicendo un po' prima, loro, il fatto di avere delle riserve nei confronti della madre Chiesa, perché proprio non hanno trovato più quegli spazi o quelle persone capaci di entrare in punta di piedi nelle loro situazioni spicciole. La Chiesa è questo che deve fare, deve mettersi al passo con i tempi e con le situazioni concrete con le quali i giovani si trovano a confrontarsi e offrire loro quelle opportunità, quelle, direi, strutture, situazioni per mettere loro nella condizione di esprimersi al meglio. Al meglio. Dubbi, incertezze, Alessandra, fanno parte della vita dei giovani, soprattutto questi problemi, forse li inculchiamo proprio noi adulti. Loro hanno bisogno di sentirsi amati, accolti, in un certo senso. Qual è la via più facile, se vogliamo, per raggiungere a questo obiettivo? Per quello che mi riguarda, si dovrebbe... In base sia anche alla tua esperienza. Sì, 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 si dovrebbe comunque dare loro la libertà di esprimersi. Molto spesso si pongono delle regole, dei diktat. Ci sono queste regole, bisogna seguirle e così e basta. No. Se ci sono delle regole e si devono rispettare, cercare di spiegare il perché si debbano rispettarle. O magari ognuno, in maniera libera, le rispetta secondo quello che è il proprio carisma, la propria libertà. Io credo che è proprio questo che manchi oggi ai giovani, il sapersi porre nei loro riguardi dando delle spiegazioni. Perché, ripeto, dare delle regole e poi non motivare il perché ci sono queste regole, spiegare loro la necessità di seguirle. E poi ognuno, nella propria libertà, nella propria forma, rispettarle. Io credo che questo sia fondamentale per un giovane. Necessario. Questi famosi paletti che vengono posti ai figli servono però con le dovute spiegazioni, con il dovuto accompagnamento e sostegno. I giovani molto spesso però oggi vengono lasciati soli. Questo è un problema che hanno forse tutti i genitori. Una problematica che viene fuori spesso anche dai nostri incontri e anche in altri spazi dedicati all'educazione è proprio questo, no? La mancanza di tempo da parte dei genitori, proprio per dare quelle dovute spiegazioni, quel dovuto accompagnamento. Proprio ieri nell'incontro di aggiornamento degli insegnanti di religione veniva offerta un'attenta riflessione sui nuovi mezzi che oggi abbiamo per comunicare. Vedi, internet, facebook e cose del genere. Tutto, tra virgolette, sagrosanto, ma quando viene utilizzato nella giusta misura. Nel momento in cui io delego a questo strumento, computer, internet, il mio compito di affiancare, di educare, lì sto fallendo, sto sbagliando. Perché ho scaraventato, ho catapultato mio figlio o l'alunno in un mare di guai, direi. Perché? Perché non sempre i giovani riescono a fare sintesi di quello che gli viene proposto, gli viene offerto. Perché dietro certe notizie, immagini, modelli, non sempre ci sono dei messaggi veri e autentici. Ma il più delle volte sono dei messaggi fasulli che vogliono ingannare, che vogliono offrirti un modello, una cultura, una mentalità fortemente materialista. Perché ci devono speculare. E i giovani vanno affiancati, vanno messi in guardia perché devono avere la capacità di saper decodificare le cose, di saperle leggere, andare alla sostanza e allora poi magari prendere il meglio, ciò che veramente è utile. Altrimenti vengono disorientati e cominciano i guai. Che adulti sarebbero questi giovani? Sono degli adulti che non hanno ancora una spina dorsale. Sono degli adulti fragili perché non sono stati aiutati a costruire la casa sulla roccia. C'è molta sabbia. Per cui le prime tempeste creano loro non pochi problemi. Gli uragani di questi giorni, soprattutto quello di Taranto, è un'immagine reale di quello che succede nel mondo dei giovani. Molto spesso vengono sballottati a destra e a sinistra, confusi e non capaci di fare il punto della situazione. Per cui non sei più tu che vivi la tua vita, non ti approprii della tua vita, ma sono altri che hanno deciso per te. Però questi uragani, usando l'immagine che ha usato Luciano e Alessandra, servono ai giovani anche per formarsi. Quindi bisogna saper cogliere anche il lato positivo in queste... Assolutamente, guai se i giovani non avessero dei dubbi o delle incertezze. Cioè mai nessuno si può dire di essere arrivato, assolutamente. E il cuore della fede, della cristianità è proprio questo. Avere sempre dubbi, avere sempre delle incertezze, perché poi il nostro cuore debba essere spronato a cercare la verità. Diceva Sant'Agostino questo. Porsi delle domande, quindi... Sì, è utile, è utilissimo. Lo facciamo anche noi adulti, dopo tutto. Quanto è cambiato però il modo di educare? Torniamo un po' indietro nel tempo. Ovviamente Luciano può dirci qualcosa di più in base alla sua esperienza? Sì, no, a proposito del dubbio, quando un alunno, un ragazzo provocatoriamente mi dice di essere ato, di non credere, di avere dei dubbi, io dico sei sulla buona strada. Perché vuol dire che ti stai mettendo in crisi? E la crisi serve per approfondire, per andare alla ricerca della verità. Perché poi una volta trovata, trovi la bussola che ti orienta. Per cui il dubbio è sintomo di ricerca, di mettersi in, come dire, in un cammino, in un percorso dove si desidera arrivare alla meta. Donde vengo, donde vado. Vero Alessandra? Sono domande che devono esserci, i giovani stessi se le devono porre. Ovviamente le domande poi non finiscono, continuano, perché si trova una risposta ma ne esce fuori un'altra di domanda. E allora non c'è mai termine, non c'è mai una fine. Che la nostra ricerca debba essere in continuo cammino è positivo, insomma. Perché, ripeto, il cammino di crescita è un cammino che avviene in maniera lenta nel tempo. Per cui se ogni volta il cristiano si pone delle domande a cui in un certo qual modo da delle risposte o le riceve delle risposte, è bene che continui a farsi delle domande. Perché, ripeto, qui mi rifaccio tantissimo a Sant'Agostino, solamente quando riusciremo a vedere Dio faccia a faccia possiamo dire di avere finalmente il cuore tranquillo e sereno. Ma la nostra esistenza deve essere un'esistenza fatta di domande, di continua ricerca interiore, ricerca anche di nuovi incontri, di nuove realtà con le quali comunque adoperarsi sotto tutti i punti di vista, da punto di vista familiare, lavorativo, a parte insomma soprattutto quello interiore, anche importante. Allora, alla luce del Vangelo e anche alla luce di Sant'Agostino, visto che lo ami così tanto, anche io lo amo così tanto, l'ideale sarebbe ama e fa ciò che vuoi, come lo stesso Sant'Agostino diceva. Proprio così si vive il Vangelo, no? Io quando a scuola parlo di regole, rimandandoli poi ai comandamenti, dico sempre loro, Dio non ha avuto il cattivo gusto di darci delle regole per controllarci, assolutamente. Dio ci ha dato delle regole per darci dei paletti, per offrirci dei paletti, dei punti di riferimento, ma il tutto per portarci a vivere secondo l'unico comandamento, che è quello dell'amore. Allora, se uno ama, rispetta l'altro, rispetta le strutture, rispetta il codice civile, il codice stradale, rispetta tutto, ma lo deve fare con questo sentimento di amore. Perché se invece tu rispetti la legge per quella che è, ce lo fai in maniera fredda, allora nel momento in cui avrai l'occasione di poterla scansare, lo fai volentieri. Invece uno che ama, non lo fa solo perché te lo impone una regola, ma perché tu sai che è giusto, è importante che tu faccia così, perché altrimenti puoi danneggiare gli altri e te stesso. E lì viene fuori il comandamento più grande, quello dell'amore. Sono più o meno, forse più che regole, sono linee da seguire. Ovviamente c'è la libertà da una parte e dall'altra, quindi molto spesso i ragazzi si rendono conto che è più difficile essere cattivi, è più facile essere cattivi che buoni, vero? I ragazzi ti fanno sempre questa domanda, professore, ma perché esiste il male? E allora io rispondo con la frase di Einstein, che metteva in crisi il suo docente, dicendo il male non è una categoria che esiste, esiste il bene, il male è quando non fa il bene. Bellissima questa affermazione. Cioè il male è una cosa che riguarda il nostro non adempiere al bene, il non fare il bene, perché noi siamo stati creati per il bene, per fare il bene, per amare. Per cui nel momento in cui io vengo meno a questo bene, allora determino il male. Ma di per sé esiste la categoria del bene. Rientriamo nella Chiesa e si parla spesso, soprattutto in questi ultimi tempi, di nuova evangelizzazione. Quale ruolo hanno i giovani nella nuova evangelizzazione? Questa è una grande sfida per la Chiesa, perché il Vescovo li ha definiti sulle linee pastorali la generazione incredula. Quindi sono nuove persone da evangelizzare, ma non con i modi del passato, dove io imponevo delle nozioni, delle regole, senza magari preoccuparmi di fargliele anche così comprendere. Invece devo aiutare loro a fare un incontro personale con questo Dio, che si manifesta nelle situazioni concrete, nelle vicende, attraverso degli episodi, ma anche attraverso delle situazioni di fallimento, di gioia, in ogni circostanza. Per cui se aiuti il ragazzo a fare questo incontro reale di Dio, che non è una nozione astratta, ma è una persona che si fa presente nella tua vita, nella tua strada, allora cominciamo a dare degli elementi, direi significativi, per questo loro riprendere in considerazione il cammino che porta alla sede. Dicevamo, a proposito di nuova evangelizzazione, tu sei andato proprio a scavarci anche un po' dentro, come strumenti utili alla comunicazione e quindi alla nuova evangelizzazione, possiamo utilizzare anche questo che stiamo utilizzando noi adesso, no? In questo caso, però, al contrario di quello che dicevamo prima, con Facebook, Internet, i ragazzi abbandonati a se stessi, questo strumento può essere utile per evangelizzare. Esatto, lo diceva anche il Concilio Vaticano II, i mezzi di comunicazione, cioè, sono molto importanti, sono indispensabili per poter arrivare nelle case di tutti coloro i quali hanno voglia di approfondire, di ascoltare, ma anche semplicemente per dare incuriosire, per fare in modo che poi ci si pongano poi delle domande. Esatto, ci si pongano poi delle domande. Quindi, sicuramente, utilizzati nel miglior modo possibile questi mezzi riescono ad essere molto, molto efficaci, tantissimo. In questo modo i giovani stessi poi si mettono in gioco, no? Certo. Mentre Alessandra richiamava il Concilio Vaticano II, a me veniva facile ricordare anche il Concilio Vaticano I, che affermava una cosa importante, la fede non può fare a meno della ragione. Che bella sta cosa qua. Però nessuno l'ha capita, almeno mi sembra. Perché soprattutto in quel periodo la ragione non veniva utilizzata, si prendeva per buono tutto quello che ti veniva offerto. Invece Dio non ci tratta come degli idioti. Dio ci ha fornito di una ragione. Vuole che noi le cose le pensiamo, vuole che rivolgiamo a lui anche delle domande. E lui poi, a modo suo, ci dà delle risposte. Sempre. Allora se io comincio a diventare protagonista della mia fede, non sono gli altri che devono decidere per la mia fede, devi andare in chiesa perché è così. Ma non è questo il modo. È la cosa più sbagliata. Allora invece io devo aiutare l'altro a capire l'importanza di vivere questo spazio, a questo momento, per la mia vita, per le mie scelte, per la mia persona. Non a caso poi dopo il Concilio Vaticano I c'è stato il II che ha fatto un bel passo avanti con il famoso documento Fides e Trazio, insomma, ha messo insieme queste due realtà, fede e ragione. Due ali della stessa colomba, come che diceva qualcuno, Giovanni Paolo II, insomma, si va così e si va bene sicuramente. Le due cose riescono a camminare a pari passo. Abbiamo parlato di educatori, di genitori, di insegnanti con questo ruolo che hanno importante. Qual è invece il ruolo dei sacerdoti come educatori? Qual è in importanza il ruolo del sacerdote? Il ruolo del sacerdote è molto importante per un giovane e io un messaggio che vorrei lanciare adesso è questo, che il sacerdote deve necessariamente adeguarsi ai tempi in cui viviamo, perché altrimenti non riuscirebbe a trovare un canale giusto di comunicazione con i giovani. Quindi questo è molto molto importante, riuscire come la fede si incarna comunque nella società in cui viviamo, anche l'educatore, l'insegnante, il genitore, ma soprattutto il sacerdote deve adeguarsi ai tempi. Anche perché molto spesso i giovani non accettano proprio un certo tipo di chiesa, vero Luciano? Mi vengono due, in questo momento, due flash su due grandi sacerdoti, personalità. Uno è Don Milani e l'altro è Don Pinopolisi. Mamma, che cosa non hanno fatto tutti e due? Il Don Milani che ha sfidato un po' tutto e tutti in quel periodo, siamo negli anni 50, per cui lui ha rivoluzionato anche il modo di insegnare, perché ha capito che bisognava aiutare i ragazzi, il perché dello studio, a cosa potesse servire capire certe nozioni, come poterle poi spendere nella vita concreta. Il Don Puglisi che entra in classe il suo primo giorno di insegnamento della religione, prende un cartone, una scatola e ci salta sopra e dice, io sono venuto a rompere le scatole. I ragazzi attoniti non capiscono. Poi alla fine, quando lui comincia ad offrire degli articoli sul quotidiano della Sicilia e dice ragazzi, vedete, voi dovete non essere degli spettatori passivi, ma attivi, dovete capire cosa succede nel vostro territorio, chi muove certe cose, perché voi dovete essere partecipi a quello che avviene nella vostra città, in questo modo io rompo le scatole perché c'è qualcuno che magari potrebbe sentirsi infastidito di questa nostra partecipazione. Ecco, allora il sacerdote deve essere una persona, tra virgolette, coraggiosa, si deve mettere in gioco, non deve avere le riserve, altrimenti non riesce a dare delle belle provocazioni e testimonianze. Un bel esempio questo da seguire, Alessandra, anche per te che sei insegnante, perché i ragazzi sono stanchi di sentire soltanto retoriche, teorie, hanno bisogno di vedere qualcosa di pratico, no? Soprattutto guardando la vita dei propri educatori, dei propri genitori, dei propri insegnanti. Sì, un esempio molto forte è stato anche Giovanni Paolo II, e ancora adesso tantissimo i ragazzi, anche i più piccoli comunque spesso ne parlano, ne fanno riferimento, e questo sicuramente, insomma, poi a seguire anche con Benedetto XVI, però lui è stato il primo che nei riguardi dei giovani ha dato un'impronta fortissima. E comunque segna tantissimo al giovane questo essere coraggioso, questo essere innovativo rispetto alle solite abitudini, oppure rispetto al solito modo di porsi, a cui loro comunque non sempre piace. Giovanni Paolo II, poi l'hai citato tu, cogliamo l'occasione, è stato amato anche da chi non credeva. Sì. Una bella figura che ancora sta insegnando tanto. E poi Benedetto XVI, insomma, sta continuando, non c'è stata una sosta, una sospensione, sta continuando anche sulla stessa linea. Luciano, a proposito di Benedetto XVI, leggo un passaggio che è proprio presente sulle linee pastorali scritte da Monsignor Michele Castoro. La Chiesa, in quanto famiglia di Dio, deve essere, oggi come ieri, un luogo di aiuto vicendevole e al contempo un luogo di disponibilità a servire anche coloro che, fuori di essa, hanno bisogno di aiuto. Sicuramente. C'è difficoltà in questo? Molta. Perché adesso la Chiesa, più delle volte, non si presenta come una grande famiglia. mi duole dirlo, però molto spesso, sono queste le percezioni che abbiamo, molto spesso siamo più preoccupati di apparire, è una situazione di facciata. Non ci preoccupiamo invece di disporci, di essere attenti alle persone che magari non frequentano con una certa costanza, per cui magari offrire una maggior, direi, attenzione, disponibilità, accoglienza. Creare un ambiente familiare dove il ragazzo, ma anche l'adulto, deve sentirsi a casa sua. Altrimenti, se queste persone vengono e io immediatamente, in maniera anche così fredda, irruente, faccio pesare loro certe regole, certi moniti, allora non è questa la strada giusta per attirare, come dire, a noi queste persone un po' disorientate. Molto spesso dà l'impressione di essere un po' chiusa a se stessa, no? Certo. Invece c'è bisogno di aprire le porte a Cristo. Ritorniamo a Giovanni Paolo II, Alessandra. Una figura che ha segnato anche la vita di tutti noi, oltre che dei giovani, e che può dire ancora tanto. Ovviamente noi andiamo al passo con i tempi, ci adeguiamo e scopriamo, insomma, che si può fare molto di più seguendo questi esempi. Oggi siamo, in un certo senso, alla scuola di Cristo, maestro, con la M maiuscola. Questo comunque comporta da parte nostra un grande impegno, anche perché ci dobbiamo adoperare, inventarci ogni giorno. Questo è fondamentale, perché se vogliamo comunque essere dei bravi educatori, dei bravi insegnanti, prima di tutto io dico sempre che dobbiamo metterci in discussione. Non ci dobbiamo mai dare per scontato, assolutamente. I famosi dubbi e incertezze, perché comunque questo ci porta a migliorarci, a crescere. E poi è importante anche da questo punto di vista seguire dei grandi esempi, come quello di Giovanni Paolo. Secondo, non avere timore, non avere paura, bisogna avere coraggio. Dobbiamo avere coraggio. Serve una pedagogia dei fatti, Luciano. Quindi, per concludere, come superare eventuali crisi di identità? Portare i ragazzi, come dicevamo in apertura, a riscoprire e a credere nelle loro potenzialità. L'abbiamo detto l'altra volta, lo ribadisco anche questa volta, stiamo in questi giorni realizzando con la Caritas Sudiocesana il progetto volontariato. e i ragazzi cosa non stanno facendo per dare una mano a quelle situazioni, quelle persone che hanno bisogno di aiuto. Qualche giorno fa anche i ragazzi accompagnati da Don Domenico sono stati ad animare nel reparto oncologico quei bambini segnati da una situazione molto difficile. E io su Facebook ho avuto modo di sentire i loro commenti a caldo. E quanta gioia e quanta felicità in questi ragazzi che hanno, anche se per un breve tempo, hanno saputo offrire un momento di gioia. Per cui, ecco, i ragazzi hanno bisogno di essere accompagnati a spendere al meglio queste loro potenzialità, energie. Li fa stare bene, si realizzano e cominciano a credere. Perché il credere non è solo affermare di credere in Dio. Per assurdo anche Satano dice che Dio esiste, ma non crede. Perché non si affida a lui, non vive secondo la logica di Dio. E la logica di Dio è quella dell'amore. Se noi portiamo i ragazzi a vivere questo tipo di esperienza perché loro lo fanno per amore, e questo è fede. Ecco perché i giovani sono una risorsa. Sicuro. Quindi stanno, insomma, cogliere, saper cogliere tutto questo. Benissimo, anche perché siamo pietre vive per la costruzione del tempio, insomma, bisogna darsi da fare. Così come dice il documento, le linee pastorali per l'anno 2012-2013. Noi ci rifaremo anche a questo documento, oltre che agli orientamenti pastorali dell'Episcopato italiano, educare alla vita buona del Vangelo. Grazie per essere stati qui. L'appuntamento è su questa piccola agora. Ci ritroveremo senz'altro a parlare ancora di questo perché ce n'è tanto ancora da dire. A voglia, c'è molto da dire. Allora, grazie Alessandra, grazie Luciano. Grazie a voi. Ci fermiamo per qualche istante.